Ora, non mi addentrerò in tutto questo. L'astrologia. Cos'è che stai cercando di fare? Stai cercando di guardare la posizione dei pianeti e fare certe predizioni, giusto? Voglio che tu capisca, la maggior parte delle volte, le persone che fanno buone previsioni sono persone che ti parlano del passato molto chiaramente o alcune persone ti dicono cosa accadrà domani molto chiaramente non lo stanno facendo guardando i pianeti, lo fanno guardando te. Se c'è una certa intuitività in una certa persona, lo dice. Sai, invece di insegnare questo yoga, se mi siedo a Chennai e semplicemente predico il futuro delle persone, ti dirò nei prossimi dieci anni esattamente cosa accadrà nella tua vita. Entro tre giorni avrò una reputazione tale che mezza Chennai farà la fila. Molto facilmente lo posso fare. Ma anche allo Yoga Center ci sono persone che hanno fatto così tanta sadhana, possono fare queste cose. Se mai fanno queste cose, chiuderò con loro. non li lascerò andare avanti con quelle assurdità. Li butteremo immediatamente fuori da qui. Perché, predicendo il futuro di qualcuno, non alteri la qualità della sua vita in alcun modo. Non porti alcun tipo di vero benessere. È semplicemente, sai, lo porti sempre più nell'ignoranza. Non è così? Ora, se hai il potere di conoscere il tuo domani, diventerai solo più ignorante, più egoista, più stupido, più dannoso. Segui le regole normali. Va bene, non devi conoscere cos'è il domani. Se hai fatto così in questo momento, la qualità della tua vita e il tuo modo di essere sono tali che, se oggi conosci il domani, non parteciperai all'oggi. Non è così? Sì o no? Supponi che ti dica, qualunque cosa tu faccia, non morirai. Farai cose irresponsabili nel mondo. O se ti dico, domani mattina comunque morirai, ora non parteciperai all'oggi. Non è così? Quindi, non dovresti conoscere il futuro. Non è necessario che tu conosca il futuro. Qualcuno può fare delle perdizioni? Sì, qualche volta. Ma non è al 100%. Non è mai al 100%. Ogni oggetto ha una certa influenza su di te. Vedi, in questo momento, questo contenitore, per la sua forma e il suo materiale, ha una certa influenza. Ha una certa vibrazione che emana da esso. Se permetto a questo recipiente di influenzarmi, lo tengo accanto a me, perché è un buon amico. Non tengo un recipiente di plastica, perché non mi piacciono le sue cose che dice. Tengo questo, perché, sai, dice cose piacevoli. Sono sempre in buona compagnia. Per favore, vedilo. Ma ora, se permetto a questo recipiente di influenzarmi troppo, lentamente, diventerò come un recipiente. Questo ti accadrà. Molte persone sono diventate come dei recipienti. Non è così? Non l'hanno fatto? Lasceranno che le cose li influenzino così profondamente, diventeranno così. Sì, ora, io non lascerò che questo contenitore di rame mi influenzi, ma, essendo in mia compagnia, lui viene così influenzato? Vedrai, prendi un altro recipiente di rame, mi dai qualsiasi cosa. In questo momento, mi dai qualsiasi oggetto. Dammelo solo per 20 secondi. Lo terrò in mano e te lo ridarò. Sarà diverso. Se sei sensibile, lo puoi sentire. È nettamente diverso. quindi la domanda è solo questa. Permetterai agli oggetti di influenzarti o influenzerai tu gli oggetti? I pianeti sono decisamente dei grandi oggetti, quindi hanno certe vibrazioni, hanno alcune influenze su ogni cosa intorno a loro. Se sono vicini a questo pianeta, sì. Sai che nei giorni di Purnami e Amavasya, i giorni di luna piena e di luna nuova, le persone che sono un po' disturbate mentalmente o squilibrate diventano molto più squilibrate? Sì? Anche l'oceano impazzisce, non è così? Impazzite tutti due volte al mese? Alcuni di voi non dicono nulla. Ok. Due volte al mese, se stessi impazzendo, lo avresti tentato. In ogni caso, per favore, chiedilo alla tua famiglia, te lo diranno. Ora, rispetto a quella persona che ha una mente squilibrata, tu sei molto più stabile, molto più stabilito. Ovunque la luna vada, tu non impazzisci. Se sei molto più stabilito, ovunque, qualunque pianeta vada, tu non impazzisci. Tutto qui. Lo scopo della tua vita, il destino della tua vita è fissato da te e nient'altro che te. Sì, ogni cosa ha un'influenza, ma ciò che fa di quell'influenza è ancora tuo, non è così. Ma se hai intenzione di essere spinto in giro da oggetti inanimati, sì, puoi essere spinto in giro. In quella misura, è vero. Sto dicendo, quando il divino sta funzionando dentro di te, quando il creatore sta funzionando dentro di te, perché stai permettendo delle cose inanimate di influenzare la tua vita, se tu, se permetti a questa dimensione di fiorire in te, vedrai, la vita accade in modo fantastico. Lascia che le stelle vadano ovunque, lascia che i pianeti vadano ovunque, tu andrai solo dove vuoi andare. Vuoi andare dove vuoi andare? o vuoi essere spinto in giro da oggetti inanimati? Devi deciderlo. Ora, te lo scrivono nell'oroscopo e te lo danno. In che modo vivrai? Per favore dimmi, se c'è una persona intelligente in questa stanza, puoi predire cosa farai al momento successivo. Potrebbe fare qualcosa che nessuno ha mai fatto, non è così? Se c'è uno sciocco qui, se lo guardi, puoi dire, ok, è così che vivrai. Se devono scriverlo sulla carta e dartelo che questo è il modo in cui vivrai, che fare? Significa che ti stai rifiutando di usare la tua intelligenza, non è così?